Siamo con Monica Mattevi, delegata per l'innovazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio dei Comuni Trentini. Viviala, una app che segna un ulteriore passo avanti nella direzione tracciata dal Consorzio dei Comuni, con la diffusione della piattaforma con un web presso la quasi totalità degli enti soci. Il Consorzio dei Comuni sta mettendo a disposizione strumenti che pongono al primo posto la collaborazione tra tutte le realtà del territorio, in primis il cittadino, con l'obiettivo di favorire un percorso di crescita per un Trentino sempre più digitale. La dottoressa Mattevi, un suo commento. Allora, partiamo proprio da qui, da Ala, con un progetto pilota che presumibilmente riusciremo a riutilizzare non solo in altri comuni, ma presumibilmente anche nelle comunità di valle, ma anche nelle gestioni associate. Quindi, diciamo, questi comuni che dal 2016 devono iniziare ad interagire e a collaborare sempre di più e sempre meglio. E anche in modo, anche cercando di risparmiare risorse. E attraverso questo riuso, questa app ci consente anche di riutilizzare, quindi risparmiare, questo tipo di lavoro che viene offerto, questo progetto che viene offerto in particolare alle associazioni. Infatti si tratta di un calendario condiviso dove le associazioni potranno inserire appunto i propri eventi e le proprie manifestazioni. Questo è molto importante perché spesso e volentieri ci viene chiesto dai comuni una modalità, c'è stata chiesta appunto una modalità attraverso la quale riuscire proprio a mettere in rete e a cercare di avere una panoramica, una fotografia generale degli eventi su un territorio. Quindi riuso, ma anche molta collaborazione e coinvolgimento con il cittadino. Quindi una visione cittadino-centrica attraverso queste nuove tecnologie.